Benvenuti e benvenuti, il progetto che vado a presentarvi si chiama Buddy Howe, unici di Abramo. Sì, dire? Dicevo, il progetto che vado a presentarvi si chiama Buddy Howe, unici di Abramo. Noi abbiamo analizzato un po' le debolezze di social network di oggi. Abbiamo notato che il problema principale è che ci riempiamo di amici, che nella maggior parte dei casi sono amici che non conosciamo realmente, amici virtuali o amici che si incontrivano in strada, che ne lo sordiamo. Inoltre abbiamo una marea di contenuti inutili che non ci interessano realmente, dai gattini con i nastri di orse e poi c'è un'assenza di attività reali che coinvolgono gli utenti e un isolamento e un'allenazione che deriva dall'eccessivo utilizzo del social network. In realtà però c'è un social network che funziona davvero bene, ed è in natura. Questi sono i lupi. I lupi attraverso l'un lato si riliscono, si coinvolgono in attività di lupi, cacciano, difendono il territorio, si accoppiano. E questo ha dato un po' l'ispirazione al nostro corpo e ai te dei vecchi. Il nostro social network si chiama Buddy Howe. Se dovessi descriverlo con due parole vi direi che è il Pinterest delle attività. Ma ho 5 minuti, quindi mi soppremmo un po' di più. È uno social network diverso perché porta persone reali a condividere attività reali. Amici nuovi, ma reali. Lo fa in modo veloce, sicuro. È semplice. Semplice perché comunque è un'interfaccia, stiamo progettando un'interfaccia che sia user friendly. Veloce perché abbiamo progettato uno stream di Howe, di Ululati, che ci permette di tenere immediatamente sott'occhio tutte le attività di nostra pertinenza. È sicuro perché abbiamo sviluppato un sistema di ranking e di verifica dell'identità attraverso sia un sistema in-house che appoggiandoci ad api come quelle di Transcloud, che ci permette di definire l'utente veramente verificato. È un sistema di ranking che permette di dare a ogni utente delle caratteristiche che vanno dalla votazione della sua generosità, ospitalità, affidabilità, simpatia e conversazione culturale. Un'aula, ovvero un urlato, è composto in realtà di quattro semplicissime informazioni. Noi le abbiamo trascritte sul where, when, what, who. Non hanno bisogno di molta spiegazione, in realtà ci interessa sapere il luogo dove si svolge l'attività, quando, che tipo di attività si svolge, per esempio la descrizione testuale e il branco che coinvolge, ovvero può essere diventato a tutti, può essere diventato ad alcuni tipi di utenti in base a loro ranki o in base ai loro interessi. Questo è l'esempio di un'aula. Come vedete è molto semplice, io scelgo il luogo, do una descrizione testuale, scelgo il tipo di attività, in questo caso un aperitivo, e poi magari posso selezionare come no una serie di interessi, perché magari mi piacerebbe prendere un aperitivo con persone che parlano di calcio, ora non è esattamente il mio caso, però è un giusto esempio. Questo è un knock-up del wireframe, dell'home page, lo stiamo ancora testando e realizzando, però nella linea di massimo vogliamo un po' ispirarci a Pinterest, come dicevo prima, cioè dare uno streaming dei tutti ignorati che in qualche modo ci possono poi impoggiare, e quindi che sono localizzati per la nostra città, o nella città in cui viviamo, o in quella in cui ci stiamo per regare, ad esempio. E magari abbiamo pensato di aggiungere anche una chat o un micro-blogging in realtà in modo tale da poter condividere immediatamente informazioni che non generano nulla, per esempio sta fiorendo, però io ci devo venire. Tutta questa tutura è abbastanza semplice e questo è il sistema che mi permette di verificare e di valutare gli utenti. in linea di massima. Abbiamo previsto, come dicevo prima, delle caratteristiche che vengono fuori in base alla votazione degli altri utenti che hanno avuto una relazione con quell'utente, quindi io vado a prendere un aperitivo con qualcuno, al termine dell'aperitivo lo voto in base a quello che penso è lui, posso lasciare anche un feedback. E poi abbiamo pensato anche di introdurre qualche elemento di gamification, come per esempio il batch. Non so, chi parteciva a tutti gli eventi, a tutti gli urlati, allora aggiunge un batch e così via. In realtà questo è l'obiettivo a cui stiamo puntando. Se voi per esempio, magari l'ho detto nella prossima Startup Weekend, avreste messo il bottone Howlip, la nostra Startup Weekend, io semplicemente premendo quel bottone intanto avrei condiviso l'informazione nei vari social network e poi avrei lanciato un unico urlato che mi avrebbe permesso di trovare un compagno di viaggio per venire da Trieste a Perona e quindi quando vi deve spese di viaggio conoscere in anteprima le altre persone che hanno partecipato a quest'evento, come dire, mi hanno avuto il mio franco, incontrare successivamente alle... Abbiamo lavorato per un bagno! Oh!